Presentate le idee di Fratelli d'Italia per la Toscana nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, candidati alle prossime elezioni politiche. Queste le principali necessità per la nostra regione, per il partito di Giorgia Meloni. Economia e infrastrutture. C'è una carenza infrastrutturale in Toscana. Per troppi anni abbiamo sentito raccontare un sacco di favole mai realizzate. È necessario che il prossimo governo, ci auguriamo di poter essere influenti nel prossimo governo, riesca a dare delle risposte chiare su quella che è per esempio la Tirrenica, sul necessario collegamento ferroviario fra Firenze e Pisa, anche per risolvere il grande dibattito che c'è all'interno della sinistra fra i due aeroporti, mentre bisogna valorizzare un polo aeroportuale unico. Intanto, oggi sulla campagna elettorale è piombata la notizia che la Russia avrebbe pagato alcuni partiti politici. Abbiamo già guerellato il giornale che ha affermato in maniera categorica che noi avremmo preso soldi dalla Russia. Noi non abbiamo mai preso soldi dalla Russia. Le avrebbe investiti male, visto che siamo il partito che principalmente si oppone all'invasione ucraina.